amici di youtube buon pomeriggio dal vostro lino juventus video della giornata tutti quanti in questo momento in questi giorni in queste ore dopo i due erroracci scelmi nella partita contro l'udinese stanno dicendo eh ma scelmi ci ha salvato un sacco di partite ma scelmi per una partita che ha sbagliato lo state mettendo in croce e vivi e papà ragazzi il mio è solo un discorso innanzitutto tu società sapevamo tutti che la juventus era interessata a donna ruma e questa è stata un'operazione sbagliata perché quella commissione che dovevi dare quello che c'era da dare a quel porto di raiona glielo davi l'ingaggio che dovevi dare a donna ruma glielo davi dato che buttiamo 8 e 9 milioni all'anno 7 quando cazzo prendono quei cessi di tiramse di vendacurre e roba varia quindi per me con i soldi che paghiamo noi a quei bidoni che abbiamo in mezzo al campo donna ruma si meritava tutto quello che li chiedeva perché attualmente per me donna ruma attualmente e poi c'era più forte in circolazione specialmente ora che ha vinto l'europeo diciamo fatto ha preso una maturità in più rispetto a prima quindi donna ruma è stato un errore madornale della juventus non averlo preso e l'abbiamo fatto andare a psg che tra l'altro al momento gioca in panchina perché gioca titolare che ronava ma ragazzi il problema di cesne è un altro forse tanti di voi ricordate oppure che più più che più piccolo magari l'ha sentito per nominare però non l'ha visto all'opera ma vi ricordate van der sarah van der sarah a me cesne in questo momento mi ricorda van der sarah van der sarah c'erano partite dove era impenetrappile faceva parate mostruose e c'erano partite dove prendeva gol da fessi proprio da polli poi avversare essendo alto due metri e passa i palloni anche a tre all'ora la sua tarry il tempo che seguiva che scala un pallone è morto quindi van der sarah anche aveva queste giornate super e giornate che non ne prendeva uno quindi cesne l'abbiamo visto già sono un paio d'anni che stiamo vedendo scendi che non dà più le garanzie che dava magari appena arrivato una juve l'abbiamo visto che quest'anno nell'europeo e scesni avete visti col che ha preso con la polonia tutte e tutti errori suoi l'anno scorso con il porto si è messo in croce ronato nella barbe il fatto che si è girato in barriera ma l'errore ce l'ha pure lui perché tiro non era irresistibile all'andata sull'errore di pentacur è vero che l'errore di pentacur però tu portiere lo vedi che pentacur dietro c'è una persona che cazzo glielo appoggia pentacur cioè questo è un portiere che ora con la testa è difficile recuperarlo tra l'altro ho saputo che ha fatto pure un incidente con la macchina dopo una partita di domenica quindi poi si è aggiustato proprio la serata con i fiocchi e quindi devo dire che fortunatamente non è successo niente perché poi voglio parlare a quelli che addirittura gli augurano la morte quelle gente imbecille che non voglio nemmeno qui stare a spendere parole lo possiamo insultare nel senso non ho fatto io portiere scarso perché scesni io lo dissi anche nei video degli scorsi anni scesni non è uno che può sostituire buffoni allora tu società sapendo di non voler prendere donna rumma che non sei convinta di prendere donna rumma a sto punto buffoni te lo tieni perché buffon ad oggi a 46 anni e 100 metti di scesni ancora infatti lo scorso anno quando giocavo a buffon io mi sentivo tranquillo buffon uno scorso pure partiti che ha giocato ha dato garanzie cose che scesi non dà non dà già un bel po di tempo quindi alla juventus ragazzi urge un nuovo portiere perché con questo qua e non è non è solo l'errore colludinese andiamo a guardare lo scorso anno quanti gol presi per colpa sua la polonia gli europei ha preso gol per colpa di colpa sul suo palo ha preso questo mentalmente anche se allegri ha detto delle cose giuste dopo la partita ma questo mentalmente è difficile da recuperare a sto punto abbiamo per in diamo una scienza per in diamo un'occasione a mattia per in che merita di avere anche lui a questo punto una scienza la juve perché ragazzi con questo portiere qua ve lo dico io mentalmente è difficile da recuperare poi questione caio george caio george ha avuto un infortunio che tra una decina di giorni circa si falluterà l'entità dell'infortunio vedere quando ce l'avremo a disposizione e ragazzi caio george purtroppo poi ho sempre detto che la juventus il ritiro deve andare o all'urte con merciugori questi sono infortuni che magari prendi una porta sul muscolo e si lesiona poi le dico purtroppo non possiamo farci niente quindi aspettiamo l'estito di caio george che comincia l'avventura nel peggior modo possibile augurando che lo recuperiamo presto e di vederlo soprattutto presto all'opera mancano pochi giorni alla chiusura del mercato cara juve guarda ci sono ancora dei punti dove la juventus va puntellata va a messe le cose a posto facciamo un'operazione intelligente si parla di un interesse del per monaco di meccanico dico io c'è gorezca scadenza di contratto perché non provarci magari ci riesce ragazzi questo è il video della giornata che volevo dire quindi volevo dire che con cesni ragazzi ve lo dico io mentalmente questo è difficile da recuperare quindi cara juventus guarda cosa devi fare o perlomeno diamo chance a mattia per in dalla prossima partita ragazzi iscrizione al canale un abbraccio a tutti e ricordatevi sempre che chi ti fa io non perde mai ciao